Ciao, sono Franco, il tuo operatore, come ti chiami? Dimitri. Dimitri, da dove vieni? Piemazzo, Modena. Ok, oggi fai il tandem, una tua decisione, un regalo? Il suo regalo, scusa. Il suo regalo? Ah, lei è la responsabile, è bene, è bene. Per? Compleanno? Sì, compleanno. Ok, perfetto. Allora sarà un tuo problema poi trovare un regalo bello per lei, perché questo vedrai che sarà soddisfacente. Ok, ti hanno spiegato quello che facciamo? Ti ricordi tutto? Speriamo di sì. Ok, allora benvenuto al Campo Volo di Reggio Emilia, ci vediamo tra poco in aereo. Buon divertimento. Ciao. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti